Chi sei? Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University. E che cosa ci fai qui? Penso di avere le capacità per lavorare come sua assistente. Sì, sono venuta a New York per fare la giornalista. Ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark. Ho incontrato Sherry alle risorse umane e... praticamente o qui o a Auto Universe. Quindi tu non leggi Runway? No. E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me? No. E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda? Beh... Penso che dipenda da quello che uno... No, no. Non era una domanda. Sono stata direttrice del Daily Northwestern. Ho anche vinto un concorso nazionale per giornalisti universitari con la mia indagine sul sindacato dei portieri che denunciavano... È tutto. Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione. Io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic e non capisco molto di moda, ma... Sono sveglia. Imparo molto presto e lavorerò comunque... Allora, ho l'esclusiva di cavalli per Gwyneth, ma il problema è che con quel gigantesco copricapo di piume che indossa sembra che sia appena scesa dal palcoscenico del Moulin Rouge. Grazie del tempo che mi ha dedicato. Si può sapere chi è quel caso umano? È per un servizio prima e dopo la cura di cui non sono al corrente?